io mi ricordo che avevo i capelli lunghi ricci ne avevo tanti allora ero molto giovane e verdone mi ha visto ha detto sandro mi piace la tua faccia e si puoi lavorare con noi però c'è una cosa che devo dirti devi tagliare i capelli vabbè li accorciamo un po ma che accorciare di tagliare rasati devi fare un figlio di crisna che cristiano va bene lo faccio cioè va bene lo faccio lo faccio volentieri capirai un film con verdone e quindi ho tagliato i capelli e ho fatto questo film abbiamo girato davanti alla magrafe mi ricordo che abbiamo girato di sera tardi aveva giocato la roma mentre giravamo passavano i tifosi dentro il pullman roma roba un casino timone non c'era in sceneggiatura non c'era però nel riparente sandro mi piace la tua faccia e io devo metterti dentro non so come però se tu vieni sul set ogni giorno noi ci inventiamo qualcosa e così è stato ha cominciato con la prima scena che abbiamo girato era balliamo ecco balliamo balliamo sì lino sandro è bravo e villaggio sandro è uno dei nostri e poi dopo pian piano le neri si è inventato tutte le altre scenette alla fine sono diventato un protagonista insieme a baffi e villaggio mi ha portato fortuna quel film guarda erano lui richiama così schiaffi teatrali perché non è che dai lo schiaffo con le dita così che fa male schiaffi che fanno rumore però non fanno male li dai così padre col palmo scemo di guerra si è un film con regia di di norisi abbiamo girato con michelle coluche allora era famoso in francia e beppe grillo allora ho un ricordo di questo film che dopo 15 giorni di riprese stavamo tutti male addirittura beppe grillo è stato portato abbiamo interrotto i film portato in italia con l'ambulanza e poi abbiamo ripreso il film e due mesi dopo però beppe grillo ha detto io ritorno a fare il film però voglio lo chef italiano voglio la pasta italiana voglio la roulotte dove posso cucinarmi e così è stato io avevo appena girato fra che bella umana e neri ha detto sandro c'è una piccola cosa la vuoi fare ho detto beh volentieri che faccio e quindi ho fatto questa questo piccolo personaggio che è rimasto ma ogni volta che incontro maurizio matteone mi racconta sempre questo personaggio ti ho fatto sta battuta 35 anni che vai non ogni ogni anno va in onda anche più volte d'estate credo che sia intanto è una delle prime serie e credo che sia l'unica che va in giro ogni anno da 36 anni ecco è una bella serie ci sono dei dei club di professione e vacanze ci sono se ne parla molto insomma con gerry ho girato anche un ragazzo e una ragazza già ci conoscevamo ci sentiamo ancora con gerry e quando quando c'è stato il trentesimo compleanno di professione vacanze ci siamo ritrovati con 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 gerry e abbiamo fatto anche lo spettacolino abbiamo festeggiato con tanto di torta zona la vampira mi ricordo guarda ti dico questa cosa allora io stavo facendo uno mattina quindi mi alzavo io stavo in umbria allora ad amelia quindi mi alzavo alle 4 di mattina per stare alle 6 in a sax a rubra per per uno mattina invece e poi meno male con gli orari mi ritrovavo perché poi verso le 8 9 andavo sul set dei fratelli manetti e quindi riusciva a fare tutte e due poi quando si girava di notte con i fratelli manetti e io non andavo nemmeno a dormire giravo di notte con loro poi finivo con loro e andavo a fare uno mattina e quindi dormivo se dove dove mi appoggiavo dormivo e mi diceva anche perdoni ma sandro ma dormi sempre ma se stavo all'aperto dormivo uguale dormivo sempre mentre invece spaghetti house e spaghetti house ho conosciuto un manfredi era già il mio idolo e poi l'ho conosciuto una persona stupenda mi ha aiutato molto sul set invece lui il primo giorno detto noi domani ci vediamo per studiare la sceneggiatura e venite a casa mia quindi io gulotta e nestor garai non mi ricordo l'altro nome pernice nino pernice gino pernice va bene tutti intorno al tavolo bello prendete il caffè sì grazie oh non è la vazza c'era allora lui faceva la pubblicità della razza ha fatto questa battutina poi sul set sul set quando c'era lui sul set c'era un silenzio se sembra di stare in chiesa proprio e lì ti sentivi veramente attore perché non recitavi più ti sentivi no ti sentivi attore eri entrato talmente tanto nel personaggio che eri quel personaggio non stavi recitando con rosa abbiamo questa casa vacanze d'estate da maggio fino a settembre noi affittiamo gli stranieri ma non perché non vogliamo gli italiani perché si prenotano prima loro e vengono da tutte le parti del mondo insomma abbiamo avuto new york abbiamo avuto dunque new york toronto germania francia inghilterra cioè vengono dappertutto abbiamo cani gatti galline fra un po arriveranno anche gli asinelli appena recintiamo e quindi siamo al posto qui si sta bene sono mi chiamano per fare qualche film la televisione a meno non piace sinceramente non ho lo stesso entusiasmo di prima prima c'era il cinema quello che facevo io non c'è più è morto sai io una volta ho girato io ho girato con con la televisione ma ho girato con i vanzina con questi che vanno cinema ho girato invece a napoli la squadra la squadra mi ricordo che ci sono quattro registi per fare che ne so 6 6 7 puntate al giorno al giorno c'è una cosa velocissima che non è per me non è cinema questo non mi piace insomma se arriva qualcosa di buono se mi chiamano i riparenti che sa fare il cinema si ben venga e il resto no preferisco star qui si sta così bene questo non mi piace insomma è Grazie.